Come state leggendo dal titolo qui sotto sono disponibili dei corsi rilasciati da Harvard in particolare 9 videocorsi senza spendere un soldo quindi del tutto gratuiti Molti di voi mi hanno chiesto ma Samuele tu dove hai imparato a creare videogiochi? Ho già risposto a questa domanda trovate proprio il video in descrizione ma come vi ricordate quello che dico sempre oggi siamo molto fortunati soprattutto voi giovani ragazzi che non dovete pensare a pagare l'affitto andate a scuola e quindi avete molto tempo a vostra disposizione dopo aver fatto i compiti lo sapete benissimo oggi siamo molto fortunati perché ci basta semplicemente andare su internet per avere accesso a centinaia migliaia di informazioni pagando semplicemente niente e come sapete questa cosa è fantastica io ho imparato proprio in questo modo trovate poi tutte le risposte nel dettaglio in quel video quello che facevo è che subito dopo la scuola mi riposavo facevo i compiti che dovevo fare appunto per il giorno dopo e poi mi mettevo subito a studiare nuovi programmi quindi ne scaricavo di nuovi ne eliminavo tanti altri perché oggi come sapete vi basta semplicemente cercare come creare giochi come fare grafiche come fare qualsiasi cosa su internet e trovate appunto video su youtube, corsi a pagamento, corsi gratuiti trovate qualsiasi cosa e vi ricordo anche che se non volete perdervi corsi gratuiti o i video su come creare videogiochi su questo canale vi basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti ma come stiamo vedendo proprio da questo articolo su fortuneitalia.com vi lascio il link in descrizione sono stati rilasciati in maniera del tutto gratuita 9 videocorsi dall'università di Harvard che appunto tutti possono seguirli naturalmente in inglese ragazzi non fate il mio stesso errore l'inglese è molto molto importante se siete molto giovani imparate l'inglese e ragazzi non avrete mai nessun problema in futuro veramente l'inglese è stra essenziale e praticamente all'interno dei corsi non dobbiamo pagare nessuna fee dobbiamo pagare nel momento in cui vogliamo ottenere il certificato in questi casi il certificato ha un vero e proprio valore quindi quello che vi consiglio è che se poi seguite tutto il corso superate tutti i test e così via quello che potete fare è richiedere il certificato di aver visto tutte le lezioni e così via non so come funziona di preciso perché appunto penso che mi scriverò anche io tra qualche giorno tra quelli più importanti troviamo un corso sull'introduzione alla computer science troviamo un corso sul python e il javascript troviamo un corso sull'intelligenza artificiale python troviamo altri corsi interessanti ma per molti di voi sicuramente quello che interessa è il corso sull'introduzione allo sviluppo di videogiochi un corso gratuito da seguire dalla durata di 12 settimane dove si può avere il certificato con l'aggiunta di 149 dollari e quello che si imparerà a sviluppare sono giochi in 2d e 3d quindi si analizzerà il design di videogame popolari come super mario bros pokemon angry birds ed altri ovviamente è del tutto free quindi consiglio assolutamente di seguirlo vi basta semplicemente infatti iscrivervi e praticamente non so se verranno rilasciati direttamente tutte le varie lezioni oppure semplicemente verranno rilasciati giorno dopo giorno adesso non ricordo perché non so effettivamente poi come funziona tutta la piattaforma ma se non erro resteranno comunque per sempre in maniera del tutto free in questo corso quindi si analizzerà il design credo che anche si programmerà perché possiamo vedere che appunto si utilizzerà l'engine unity è l'off 2d che per chi non lo conosce è un engine che ti permette di realizzare videogiochi sono stati fatti appunto diversi videogiochi anche molto importanti e si programmerà in lua e c sharp cosa fantastica ragazzi vi consiglio assolutamente di seguirlo perché poi molti di voi potrebbero richiedere il certificato che come sapete questa cosa potrebbe essere importante per molti di voi perché dovete seguirlo secondo me perché ragazzi proprio in questi giorni molti di voi magari stanno facendo gli esami hanno finito già la scuola e quindi questo è il momento giusto per studiare d'estate e fare quello che effettivamente si vuole fare nel proprio futuro quindi come sapete trasformare la propria passione in professione ne abbiamo parlato anche proprio ieri in live su come sfruttare l'estate se si è dei programmatori di videogiochi ma anche dei programmatori in generale e quale migliore occasione per potersi iscrivere a un corso della durata di 12 settimane riguardo lo sviluppo di videogiochi credo che lo seguirò anche io anzi non vedo l'ora di seguirlo perché questa potrebbe essere anche un'occasione per tutti noi non solo per seguire un corso riguardo lo sviluppo di videogiochi ma in più l'inglese ragazzi che è molto importante seguirlo, ascoltarlo, parlarlo e sicuramente come state leggendo anche qui ci sarà la possibilità appunto di seguire le lezioni con i vari sottotitoli anche in inglese per quelle persone che magari non riescono subito a capirlo ragazzi vi consiglio assolutamente di seguire questo corso ma vi consiglio anche di leggere l'articolo completo perché secondo me potrebbero esserci altri corsi che vi potrebbero interessare quindi non soltanto questo qui potrebbe essere appunto un'ottima occasione per tutti noi per sfruttare al meglio questo periodo di post scuola che appunto anche se in questi mesi la scuola è stata fatta in remoto quindi da casa quindi non siamo andati a scuola per studiare ma direttamente da casa molti di voi potrebbero appunto sfruttare questa occasione per seguire un corso in inglese riguardo lo sviluppo di videogiochi se volete rimanere sempre aggiornati con il mondo dello sviluppo di videogiochi vi basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti se vi è piaciuto questo video vi invito di lasciare un mega pollicione in su fatemi sapere la vostra con un commento qui sotto voi inizierete a seguire questi corsi? li farete? non li farete? farete soltanto questo? fatemi sapere voi cosa ne pensate e fatemi sapere anche se molti di voi decideranno anche di prendere il certificato che questa cosa secondo me è molto molto importante perché la potremmo anche inserire poi sui nostri social come LinkedIn o all'interno del nostro curriculum perché effettivamente un certificato a soli 149 dollari comunque un certificato rilasciato da Harvard potrebbe essere comunque utile per molti di voi che magari poi vorrebbero lavorare all'interno di un'azienda come sviluppatore di videogiochi ragazzi io vi auguro un buon sviluppo di videogiochi ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video e allora direi di vederci domani ciao